Ecograffi è una nuova redazione multimediale che crea e realizza programmi televisivi e video interviste. Ecograffi valorizza la tua attività in campo medico, ambientale e sociale, curando l'approfondimento giornalistico e l'attualità delle informazioni. Siamo a Torino. Visita il nostro sito www.ecograffi.it o contattaci alla mail ecograffi-gmail.com. Ecograffi, la tua redazione online.